Buongiorno cari studenti. Oggi ripasseremo l'ultima lezione. Cosa abbiamo studiato la scorsa settimana? Il teorema di Pitagora. Giusto, molto bene, Sara. Ho bisogno di un volontario. Chi vuole farsi avanti? Tu, Marco? Tu, Marco? Maestro Luigi può chiedere a qualcun altro? Maestro Luigi può chiedere a qualcun altro? Perché dovrei chiedere a qualcun altro? Perché dovrei chiedere a qualcun altro? Non ricordo bene l'ultima lezione. Non è un problema mio, Marco. Vieni alla lavagna. Vieni alla lavagna. Ok, maestro Luigi. Ora scrivi alla lavagna il teorema di Pitagora. Ora scrivi alla lavagna il teorema di Pitagora. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Gliel'ho già detto. Gliel'ho già detto. Non essere sfacciato, Marco. Non essere sfacciato, Marco. Perché non lo ricordi? Perché non lo ricordi? Non eri attento durante la scorsa lezione? Non eri attento durante la scorsa lezione? Sì, lo ero. Sì, lo ero. Ma durante il fine settimana l'ho dimenticato. Ma durante il fine settimana l'ho dimenticato. devi studiare di più, Marco. Devi studiare di più, Marco. Ti metterò due. Ti metterò due. Devo insegnarti la disciplina. Devo insegnarti la disciplina. Maestro Luigi, non è un po' troppo severo? Maestro Luigi, non è un po' troppo severo? Cosa stai cercando di dirmi, Lisa? Cosa stai cercando di dirmi, Lisa? Non può dare a Marco un'altra possibilità? Non può dare a Marco un'altra possibilità? Preferiresti essere al suo posto? Preferiresti essere al suo posto? No, certo che no. No, certo che no. Allora stai zitta. Allora stai zitta. Ma non vede che sta piangendo? Ma non vede che sta piangendo? Che gli sia d'insegnamento. Che gli sia d'insegnamento. Penso che sia troppo severo. Penso che sia troppo severo. Basta così, Lisa. Basta così, Lisa. Sei troppo irrispettosa. Sei troppo irrispettosa. Verrai richiamata ufficialmente per questo. Verrai richiamata ufficialmente per questo. Che cosa significa? Che cosa significa? Con tre richiami si deve lasciare la scuola. Con tre richiami si deve lasciare la scuola. E devi andare dalla direttrice con i tuoi genitori. E devi andare dalla direttrice con i tuoi genitori. Papà, oggi dobbiamo vedere la direttrice. Papà, oggi dobbiamo vedere la direttrice. Che cosa è successo? Che cosa è successo? Il maestro Luigi mi ha dato un richiamo. Il maestro Luigi mi ha dato un richiamo. Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Stavo solo cercando di difendere Marco. Stavo solo cercando di difendere Marco. Ok, parleremo con la direttrice. Ok, parleremo con la direttrice. Salve signor Petrucci. Ciao Lisa. Salve signor Petrucci. Ciao Lisa. Cos'è successo oggi? Lisa. Cos'è successo oggi? Lisa. Il maestro Luigi ha reagito in modo del tutto esagerato. Il maestro Luigi ha reagito in modo del tutto esagerato. Volevo solo aiutare Marco. Volevo solo aiutare Marco. Capisco. Capisco. Ma a volte è meglio essere un po' più severi. Ma a volte è meglio essere un po' più severi. In modo che i bambini imparino qualcosa. In modo che i bambini imparino qualcosa. E il mio richiamo? E il mio richiamo? Può revocare l'ammunizione, signora direttrice? Può revocare l'ammunizione, signora direttrice? Temo che non sia possibile. Temo che non sia possibile. Lisa è nella classe del maestro Luigi. Lisa è nella classe del maestro Luigi. Solo lui può prendere questa decisione. Solo lui può prendere questa decisione. Dovete parlare con lui. Dovete parlare con lui. Capisco. Cosa succederà ora? Capisco. Cosa succederà ora? Lisa non deve ricevere altri richiami. Lisa non deve ricevere altri richiami. Altrimenti dovrà lasciare la nostra scuola. Questo non accadrà. Questo non accadrà. Lisa non riceverà più richiami. Lisa non riceverà più richiami. Lo spero anch'io. Lo spero anch'io. Quanti richiami si devono ricevere per lasciare la scuola? A1 B2 C3 Scrivi un commento. Quanti richiami si devono ricevere per lasciare la scuola? A1 B2 C3 Scrivi un commento. Caer lucro! Grazie a tutti.